Ciao, sono Vatelia Rossi. Volevo dirvi che ci sarò anch'io il 19 settembre a Roma Piazza del Popolo sul palco dell'Animal Aid Live perché mi sembrava importante esserci in questo momento storico in cui le fasce deboli sono sempre più deboli e sono sempre più oppresse e tra queste gli animali in primis. Ciao a tutti, ci vediamo il 19 settembre a Roma Piazza del Popolo.